Noi adesso vogliamo il massimo, vogliamo tutto quello che c'è scritto nel piano sanitario. Tutto, non esiste più post-acuzzi, questo, quello, l'altro, eccetera. Vogliamo tutto quello che il legislatore ha assegnato a questo presidio ospedalista. Perché, dottore Fingarda, altrimenti, e lo dico pubblicamente, il nostro luogo non ha più senso, non ha più senso che ci sia una sfera della comunità che è quella della politica, che dai livelli più legati al territorio, sui massimi livelli, rappresenta le esigenze del territorio, perché il piano sanitario, come lei sa, o questi cittadini, non è che nasce per caso. Cioè il fatto che dentro l'ospedale i cicli vengano ricollocati quei servizi, quelle unità, e non è che ce lo siamo inventati. E' il frutto, anche se volete, di una battaglia e di un impegno che parte da Scigli e arriva alla sesta commissione a Mars, e quindi arriva al governo regionale. E allora la politica, cioè la rappresentanza dei cittadini, o ha un senso, o ha un valore, o altrimenti noi ci ritiriamo, io sindaco mi dimetto, mi dimetto, e siccome poi da dimetto posso fare tutti i casini che voglio, e comincio a fare il capopopo, invece di rappresentare un'istituzione. E commissariamo tutto qua. Grazie.